Prima categoria, Girone C, si affronta da Santo Esebio, il Borgo Incrociati e il Pieve Rigore, entrambi reduci da due sconfitte. Dopo 10 minuti, Apicella impegna dalla distanza a Piovesan che respinge. Poco dopo, cross di Apicella, tiro di Valenti, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco. Dopo 16 minuti, Ombrina va via in velocità sulla fascia sinistra, penetra in aria, calcio a botta sicura, ma Piovesan respinge in angolo. Il Pieve si rende pericoloso a seguito di un calcio d'angolo, Ruocco di testa spedisce sull'esterno della rete. A inizio ripresa, il Borgo passa in vantaggio, sontuosa giocata di Sant'Agata, che crossa per Valenti, che arriva puntuale con l'appuntamento al gol. Rivediamo il replay con le immagini di Alice Lisetti. Un minuto dopo, viene espulso Cesai dall'arbitro gioca per un brutto fallo su Apicella. Al 54esimo, Ruocco di testa, prova a raddrizzare la partita. Mira imprecisa, palla che termina fuori dallo specchio della porta. 20 minuti dopo, Carboni viene fermato per una posizione irregolare al momento del tiro. Espulso Rebolini, seconda espulsione per il Pieve Ligure. Tre minuti dopo, De Marinis, secondo portiere del Pieve, dalla panchina, dice qualche parola di troppo e viene espulso. Anche in doppia inferiorità numerica, il Pieve ci prova con Vecchi, che prende il palo con un colpo di testa. Machiavelli innesca Valenti, ma il suo tiro viene respinto da Pieve Zanne. Sul proseguo dell'azione, Pieve Zanne dice di no anche a Machiavelli. Raccoglie Valenti, che reclama la massima punizione per questo intervento. Rivediamo il replay con le immagini di Alice Lisetti. All'88esimo, Valenti segna il gol che chiude la partita. Partita scoppiettante a Sant'Eusebio, che si conclude con il 2-0 del Borgo Incrociati contro il Pieve Ligure.